Poi dopo mi organizzo e facciamo un solo torcion per la seconda partita. Sì, così ce l'abbiamo tutti nel piatto e si comincia tutti a mangiare insieme. In due volte? Sì. Mi hai detto che ne fai uno per sette. No. Sono tre persone, quattro persone, quattro e tre sette. Vado una per in prima con di più e di meno. Vedo come reagiscono, non ho... Vado una... Ehi, ehi, ehi.